Diamo inizio alla benedizione delle palme cui seguirà la Santa Messa. Preghiamo di fare silenzio. Quando Sacerdote benedirà le palme, scenderà anche in mezzo a voi. Per cui chiediamo di lasciare un piccolo corridoio al centro quando scenderà il Sacerdote. Così potrà benedire a destra e a sinistra. E concedi a noi due fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E adesso, assieme a questi rami, sono le nostre vite, le nostre storie, le nostre famiglie, le nostre gioie, i nostri dolori, il sangue e la luce che attraverso noi arriva al Padre. Preghiamo. Accresciottivo la fede di chi spera in te. E concedi a noi i tuoi fedeli che reghiamo questi rami in onore di Cristo triunfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone. Per Cristo, nostro Signore. Accompagniamo con la preghiera questo gesto, evitiamo la dissipazione e il silenzio, ci accompagni. Come ci ha ricordato, l'introduzione che abbiamo ascoltato, questo gesto di oggi ci introduce alla passione di Gesù. Subito dopo la Santa Messa, inizierà nella Chiesa. Con la benedizione delle batte faremo una piccola processione. Se siamo minuti soltanto per la benedizione e basta, è un gesto incompleto. Dobbiamo anche incontrare il Signore Gesù. Grazie. Grazie.